Lei è qua perché mi vuole bene, mi stima, è feeling, signori e signori, Katia Folleta! Ma scusate! Buonasera! Sì, buonasera. Allora, mettiamone il bollino rosso per i bambini. Buonasera! Qualcosa è andato storto però, direi, eh? Eh, separata alla nascita da una betoniera, credo. Michelle! Ma questa è completamente fuori di testa. C'è lo stesso istituto. Scusate, Michelle, scusami. Ma ho appena detto che sei una mia amica e questa sarebbe l'amica che... No, no, ma io non ti voglio oscurare. No, scusate, ci deve essere stato un malinteso, scusa, Michelle. Ma questo è l'orrore di ogni conduttrice televisiva, cioè, ma non hai parlato con la mia costumina? Cioè, adesso lo so cosa diranno i giornali domani. Michelle Unzi che era in crisi copia la follesa. No, vabbè. Non credo, eh. Io sono mortificata, Michelle. Dai, ma me lo potevi chiedere prima, Lassi. Dai, dai, stai facendo una roba professionale. È una roba brutta, scusa. No, ma è brutta, vero? Non è che è brutta. No, è bruttissima, ma invece di litigare sui vestiti, scusate, perché lo vogliamo invece un conduttore bravo, insomma... E quindi un conduttore bravo, nel senso che io faccio... No, noi non ce l'abbiamo quello bravo, ma ne abbiamo uno molto bello. No, no. Grazie a tutti